Il 26 aprile del 1986, all'1.23 di notte, si assiste a una delle più grandi catastrofi nucleari della storia dell'umanità. Nell'Ucraina settentrionale, a 3 km dalla città di Pripyat e 18 da Chernobyl, il reattore 4 della centrale nucleare posta tra queste due città subisce una tremenda esplosione di vapore, seguita da incendi e da nuove esplosioni, fino alla totale fusione del reattore. La nuvola radioattiva liberata è 200 volte più radioattiva della bomba sganciata su Hiroshima e Nagasaki e arriva a sovrastare velocemente le zone circostanti, costringendo l'evacuazione di 336.000 persone. La nube arriva anche in Europa, guidata dai venti. arriva in Scandinavia, Olanda, Belgio e Gran Bretagna, per poi deviare verso l'Europa centrale e i Balcani. Durante il passaggio della nube, la pioggia porta con sé depositi radioattivi che sono principalmente isotopi di Cesio. A informare il mondo del disastro, arriva prima la nube avvelenata e poi le comunicazioni ufficiali del governo sovietico. Infatti, il 28 aprile, nella centrale svedese di Forsmark, a 1100 km da Chernobyl, si trovano particelle radioattive sui vestiti dei lavoratori. Scongiurate le perdite nell'impianto svedese, si intuisce a quel punto che qualcosa di molto grave aveva colpito una regione occidentale dell'Unione Sovietica.